Ehi la ciurma, io sono Mazzetess e oggi parliamo di Moonlighter Moonlighter aveva un grande hype dietro, nel senso che molta gente era rimasta interessata già dai primi annunci che avevano fatto di Moonlighter Questo fatto di avere la doppia componente, cioè una parte manageriale in cui gestiamo un negozio e vendiamo oggetti, potenziamo il negozio, potenziamo la città La città si espande intorno al nostro negozio, che è un po' quello che Shop e Keep 2 E la parte di combattimento, cioè andiamo dentro il dungeon, lameniamo questi mostri, prendiamo il loot dai mostri e andiamo poi a vendolo nel negozio Cioè in pratica la fin fine Will e il protagonista non dorme mai perché di notte vai a picchiare i mostri e di giorno vendi Sembrava davvero super interessante, infatti anch'io ero super preso all'inizio perché dicevo Oddio posso vendere le cose, guadagnare per poi investire e guadagnare di più la mia anima capitalista diciamo Risorgeva e dicevo wow sarà il gioco definitivo E anche graficamente, seppur un po' retro, non mi dispiaceva diciamo ecco E quindi ci stava, ci stava, credo che l'avrei, non lo so Sì l'avrei preso almeno nella wishlist, se non comprato, se non mi fosse arrivato gratis Per questo tra l'altro ringrazio Evolve PR Il problema forte di Moonlighter è che... No Il problema lo lasciamo tra un attimo Ritorniamo a parlare di come funziona Moonlighter Allora noi siamo Will, Will è questo protagonista qua Un ragazzo che ha come compito principale quello di gestire il negozio di famiglia Poi lui essendo, avendo dei grandi progetti, delle grandi ambizioni come tutti i ragazzi del mondo hanno Desidera essere un eroe E quindi affrontare i mostri che sono nei dungeon all'esterno della città Che sono apparsi misteriosamente, la gente scompare in quei dungeon, non si capisce bene E in pratica ci sono questi 5 dungeon diversi in cui noi andremo a combattere E progressivamente si arriva a un boss che poi dopo ci dà una chiave per accedere al dungeon successivo Più o meno è così la storia Dentro questi dungeon che si sviluppano molto come The Binding of Isaac Se avete presente, cioè ci sono delle stanze Noi abbiamo una visura dall'alto Ci sono delle stanze con delle porte sui perimetri E in ogni stanza ci può essere qualcosa di diverso Sono generate proceduralmente Ci possono essere dei mostri, ci può essere una cesta, ci può essere un enigma Ci può essere la fontana che ci dà la vita Ci può essere il mercante, ci può essere la porta di uscita per il livello successivo E ovviamente man mano che andiamo avanti dentro il dungeon Passiamo ai livelli successivi di quel dungeon I nemici aumentano di pericolosità e la difficoltà aumenta Questa è la parte di combattimento In cui abbiamo tra l'altro varie armi che possiamo utilizzare Le solite diciamo armi bianche come la lancia La spada a una mano con lo scudo La spada a due mani L'arco E via dicendo E armature che possono essere di tre tipi Leggera, media e pesante Mentre invece la componente in città manageriale Consiste nel minigioco Di prendere il loot che vogliamo mettere Vendere Lo mettiamo nei banchetti espositivi E quando apriamo il negozio Durante il giorno arriva la gente La parte di gameplay è un po' interessante Diciamo è di cercare di capire qual è il prezzo giusto degli oggetti Perché avendo la prima volta quell'oggetto Non sappiamo quanto effettivamente possa valere Un po' come nei giochi di ruolo Quando non capisci se il mercante effettivamente ti sta fregando Oppure effettivamente valga solo tipo due monete Quella spada che hai trovato Lo metti là e boh Spari un po' a caso sul prezzo I clienti che passano reagiranno Quindi se lo vedono a un prezzo particolarmente basso Saranno super esaltati Avranno tipo le monete come occhini E dicono Yeeeh Viva Costa niente E quindi tipo tu gli vendi le pepite d'oro a due monete Non te ne accorgi Oppure se è un prezzo troppo alto Lo buttano per terra Oppure si arrabbiano E ti fanno capire che Che appunto il prezzo è troppo alto E allora a quel punto tu modifichi un pochettino i prezzi Tieni traccia Devi controllare un po' diciamo nel log A che prezzo l'avevi venduto l'altra volta Per cercare di capire qual è il range giusto In cui inserirlo In modo da guadagnarci Ma non andare a pesare troppo sulle spalle dei clienti Perché altrimenti il negozio si spopola Se hai dei prezzi troppo alti E la gente non compra più Con questi soldi guadagnati Andiamo uno A espandere il nostro negozio Per cui diventa più grande Abbiamo degli espositori in più Abbiamo delle ceste in più Per riporre i nostri oggetti E delle altre cose in più Tipo il banchetto dei saldi Dove c'è un tavolino In cui mettere la loro roba scontata Con questi soldi Poi andiamo anche a potenziare la città Come dicendo Per cui arrivano dei nuovi negozianti Riaprono le botteghe Che avevano chiuso E possiamo anche comprarci dei potenziamenti Sia sotto forma di pozioni Che sotto forma di miglioramenti di armi E armatura Con questi soldi Inoltre avremo Cioè avremo bisogno di tenerci dei soldi Anche per quando andiamo a combattere Perché all'interno del dungeon Ci sono due meccanismi Principalmente che ci permettono di salvarci Di scappare dal dungeon Pagando dei soldi Perché altrimenti Morendo all'interno del dungeon Salviamo solo un determinato pezzetto di loot Bisogna anche capire Quando è necessario Spendere per tornarsi a casa Con tutto lo zaino pieno Piuttosto che Arrischiarci magari Di entrare in un'altra stanza E rimetterci le penne E quindi Quasi tutto il loot Il problema di Moonlighter E qui arriviamo davvero ai problemi È il fatto che Non eccelle sotto nessun punto Sia la componente manageriale Che la componente di combattimento Dentro il dungeon Non hanno Nulla di particolarmente Travolgente Nel senso che Il negozio Sì Hai quella parte da gestire Ma alla fine Si risolve in quello E diventa abbastanza monotono Con il passaggio del tempo Mentre invece Anche la parte di combattimento Come gameplay Non è nulla Di nuovo Nulla di Mai visto E Oltre a quello Ci si mette anche il fatto Che le armi Alla fine Non contano Cioè Tutte le armi Sono abbastanza Equivalenti La cosa importante È davvero Il livello A cui tu hai Quell'arma Con l'eccezione Dell'arco Essendo un'unica arma A distanza È importante Possedere Se poi hai una spada A una mano Una spada a due mani Oppure La lancia È completamente indifferente Come anche se L'armatura leggera L'armatura media L'armatura pesante Non gliene frega niente A nessun nemico Non è che cambia Ti equipaggi leggero Per un nemico Ti equipaggi pesante Per quell'altro nemico È importante Solo che tu L'abbia livellata Al punto giusto Cioè che se sei Al secondo dungeon Non puoi avere ancora L'armatura A livello base Perché altrimenti Ti distruggono Di botte Ma se poi Hai l'armatura Leggera Di livello 2-3 O se hai l'armatura Media Di livello 2-3 Non cambia nulla È davvero Un po' Un peccato Perché Nel 2018 Noi abbiamo Tanti 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 Giochi Che escono Cioè Ne usciranno Più di mille All'anno Di sicuro Di videogiochi Su Steam Ce ne sono In questo momento Circa 24.000 Di giochi Che uno può comprare E provare E divertirsi Con essi Nel 2018 Con così Tanti giochi Un gioco Medio Un gioco Da 6 Non lo vai A comprare E questo È un gran problema Perché non basta Più Essere Un gioco Medio Per poter Vendere Perché Ne ho catervate Come me Tutti Abbiamo catervate Di altri giochi A cui possiamo giocare E quindi Skipperemo Passando da Moonlighter E questo È un gran problema Perché Poi tra l'altro Con quello Che ci hanno messo Sopra Quei ragazzi Avrebbe potuto Essere molto Di più E un po' Mi spiace Perché È quello Che differenzia Un gioco Bello Da un gioco Medio È che Nel famoso Momento C'è nella vita Di un gamer Cioè di tornare A casa Quando stai tornando A casa Pensi Ah Adesso arrivo Lo apro Così devo andare In città Vendere Quegli oggetti Là Puoi andare In quel dungeon Esplorare Uccidere Quello Grindare Un po' Di quelle cose Là Puoi andare Là In quell'altra Città Esplorare Andare avanti Con la quest Sì però Poi c'è magari La secondaria Dove vedere Se devo fare Prima la secondaria E poi la principale E vedere Un po' Ecco E questo E questo è un bel momento Perché ti fa Già pregustare E' proprio come il sabato Che aspetti la domenica Ti fa pregustare Il momento in cui giocherai Ed è una Cosa molto bella Che ti fa amare Quel gioco Te lo fa ricordare Anche dopo che l'avrai finito Che avrai smesso Di giocarci E invece In Moonlighter No In Moonlighter Ti trovi appunto A dire Sì Boh Magari lo gioco Un'altra volta Adesso gioco The Witcher E mi spiace Non è un gioco brutto Tutt'altro E' un gioco bellino Però Non è un gioco splendido Detto questo Per la mia recensione E' tutto Penso di aver parlato abbastanza Ci vediamo Nella prossima recensione E nel prossimo video Vi invito a lasciare un mi piace E Buona giornata a tutti Ciao 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 Ciao